È diventata una routine ormai parlare di incendi. Ieri pomeriggio intorno alle 17.30 per l'ennesima volta, fiamme alle pendici del Monte Cronio, questa volta più a sud rispetto agli episodi precedenti in Contrada Isabella. L'incendio stavolta non ha inghiottito soltanto alberi e sterpaie, ma ha coinvolto anche una macchina, una Fiat Punto, posteggiata in via De Frassini. Pare che il focolaio di partenza fosse situato in una zona compresa per l'appunto tra la via De Frassini e la via degli Agrifogli, un'area incolta nei pressi di alcune abitazioni. Sono stati infatti i residenti a lanciare l'allarme. Sul posto a spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e gli uomini del corpo forestale, che fortunatamente sono riusciti a domare subito l'incendio, riuscendo a non farlo estendere al resto dell'area boschiva antistante e alle abitazioni. Nessuna conseguenza per i residenti e per le palazzine, ma solo grazie al tempestivo intervento dei pompieri, costantemente da maggio ad oggi al lavoro per tentare di contrastare l'incessante fenomeno degli incendi. Anche in questo caso non è da escludere la mano di un pinomane, oppure di chi non curante del divieto abbia dato fuoco a della legna o delle sterpaie nel proprio terreno privato, ma che a causa del forte vento che ieri soffiava in città abbia innescato l'incendio altrove. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori,